Ciao amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei Cuori Solitari e questa sera vi voglio presentare un altro bel ragazzo, che si chiama? Gaetano, mi chiamo Gaetano Di dove sei? Di Mazzara del Vallo Quanti anni c'hai Gaetano? 21 21 e cerca la sua anima gemella Dimmi Gaetano, come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? Che tipo di donna vai cercando? Veramente la mia anima gemella dovrebbe essere una che sia sincera come me che mi dice la verità soprattutto e che non nasconda nulla delle sue malefatte che fanno ad oggigiorno che dovrebbe fare la mia anima gemella quindi vorrei una sincera e che andiamo d'amore e d'accordo senza averne problemi quindi vorrei tanto conoscere un'anima gemella della mia stessa età anche ho due anni meno, due anni in più, l'età non conta Certo, tu hai detto quanti anni c'hai? 21 21 anni? Sì Quindi la tua ragazza anche se è più piccola o più grande non ha importanza? No, l'età non conta, certo, questo proverbio non ha mai sbagliato Certo, dimmi tu che fai nella vita lavori? No, veramente sono un ragazzo per ora disoccupato come ben dire, come ho detto poco fa io ho 21 anni quindi ultimamente sto cercando ora di avere un lavoro siccome purtroppo qua nel nostro paese per ora c'è la crisi e quindi sto cercando di avere un lavoro ora speriamo ringraziando a Dio c'è un amico mio che mi aveva promesso che all'inizio dell'anno ci sarà un lavoro per me Certo, dimmi quali sono i tuoi sport preferiti? Eh, il calcio, a me mi piace pure anche fare caccia subacquea alle volte perché è uno sport che più mi va con un pochettino il fisico anche se ho avuto ultimamente ulteriori problemi alle gambe che ora sono tre anni che non faccio più, come si chiama, al mare quindi ci andavo spesso anche con mio padre sott'acqua prendevo ricci, pesci Ricci belli se non mi piacciono i ricci La pasta con i ricci poi? Fatte con la pasta, specialmente pure con il pane spalmato, con un po' di limone Bellissimo Sì, sì Poi ho fatto pure anche la scuola berghiera dovevo fare quarto e quinto anno e purtroppo non l'ho potuto farlo per motivi, quindi problemi di famiglia quindi siccome poi paura Va bene, ascolta, ti piace la musica? Sì, mi piace la musica, mi piace il commerciale, il tecno, l'house, dipende tutto All'infuori detesto il liscio perché il liscio non è una cosa che mi piace Che ti appassiona praticamente? No, non mi appassiona, certo però durante i venti se devo stare con l'anima gemella e dico ma non mi vedi che vado a ballare, pazienza, cercherò di impararmi con una scuola di danza Va bene Gaetano, bene amiche telespettatrici abbiamo conosciuto Gaetano, 21 anni di Mazzara del Ballo Per le ragazze che fossero interessate a Gaetano possono chiamare direttamente il suo numero telefonico che trovate in sovraimpressione Ok? Ciao da Alberto Ciao da Gaetano Ciao amiche, a dopo Ciao da Gaetano Ciao da Gaetano Oh yeah Ciao da Gaetano